Oggi faccio un video un po' diverso dal solito perché vi parlo di un qualcosa che non vedete spesso su questo canale e che io normalmente non userei. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi vi parlo di un noleggio fotografico che si sta purtroppo per concludere. Questo è un momento che a me spezza sempre il cuore perché arriva il momento purtroppo in cui devo restituire quello che ho noleggiato e siccome di solito quando noleggio qualcosa è qualcosa di più bello di quello che compro per me, mi si spezza sempre il cuore. In questo caso si tratta di questo meraviglioso mostro che è il Canon RF 100-500 mm, un'ottica veramente devastante che io ho avuto in noleggio per un periodo limitatissimo, l'ho avuta per un paio di giorni, perché dovevo realizzarci un lavoro attinente al mondo dello sport a misano adriatica durante un campionato di moto. Come potete vedere, come avrete forse visto da video precedenti, è attaccata alla Canon EOS R5, una fotocamera che io ormai non dico che noleggio spesso però mi capita ogni tanto per le mani, è una macchina che io adoro, io impazzisco per questa camera perché costa uno sproposito ma è veramente super performante e quindi veramente molto molto bella. Ma oggi non vi parlo di questa macchina per cui vi lascio in card le recensioni che ho già fatto, andiamo invece a parlare della lente. Se volete recuperare i materiali sulla fotocamera vi consiglio intanto di iscrivervi al canale perché comunque continuerò a parlare di strumentazione di questo tipo, non solo di Canon ma anche di altri brand, anche se io di solito preferisco lavorare con Canon, vi consiglio di iscrivervi attivando anche la campanella e andate a recuperarvi la playlist in cui recensisco i prodotti tra cui anche questa meravigliosa macchina. Ma diciamo due parole sull'ottica. La lente si presenta in tutta la sua imponenza, siamo ormai abituati ai bianchini di Canon, quindi questi obiettivi bianchi con la scocca interamente bianca però con gli anelli di zoom di messa a fuoco che sono marcati in nero e con l'anello rosso che fa riferimento ovviamente alla serie L che è la serie quella un pochettino più carina della casa ecco. Come potete vedere in questo momento l'ottica monta il paraluce, paraluce che io ho utilizzato poco, adesso vado a toglierlo, così vedete che l'ottica da che era così adesso diventa così quindi è un po' meno grande di quello che può sembrare. Per essere precisi è lunga esattamente come la mia spanna quindi saranno un 20 centimetri, non ho la pretesa di essere precisi sulle misure perché le trovate già online così come anche per il peso. Vi posso dire una cosa, questa è un'ottica pesante, è un'ottica che pesa, si sente proprio pesa ma pesa nel modo giusto nel senso che trasuda qualità, si sente che è costruita molto bene. Ovviamente con un peso come questo una lente del genere se cade in terra probabilmente si schianta e si rompe perché pesa tanto quindi qualità non significa infrangibilità, se la facciamo cadere da due metri si rompe, quello è pacifico, però è costruita molto bene, si sente proprio da ogni movimento, si sente dall'anello di messa a fuoco, si sente dall'anello di zoom che è costruita molto bene, i materiali sono buoni. Come potete vedere ha tantissimi selettori perché ha, partiamo dall'alto, ha le modalità di messa a fuoco full o tre metri e quindi noi possiamo scegliere se vogliamo mettere a fuoco sull'intera lunghezza della lente oppure soltanto in un range tra tre metri e infinito, quindi questa è una cosa che aiuta le prestazioni di messa a fuoco per la rapidità perché ovviamente se noi diciamo alla lente in che range deve focheggiare la lente escluderà un'altra parte di range e quindi sarà più rapida a mettere a fuoco in quel segmento, è una cosa che ci aiuta. La seconda cosa che abbiamo abbiamo autofocus o manual focus, ovviamente questo è autoesplicativo, se vogliamo il fuoco automatico stiamo in automatico, se lo mettiamo in manuale andiamo poi a focheggiare a mano col bellissimo e morbidissimo anello di messa a fuoco. Subito dopo abbiamo stabilizzatore on e off, dopodiché abbiamo le modalità dello stabilizzatore che sono ben tre, quindi a seconda di quello che stiamo facendo abbiamo la possibilità di scegliere come lo stabilizzatore va a lavorare per stabilizzare le nostre immagini. Questa è una cosa che io non ho utilizzato, io sono stato sempre in modalità 1, avrei potuto approfondire ma non ce n'è stato né il tempo né francamente la necessità. Un'altra cosa che vi segnalo che devo dire ho trovato molto molto azzeccata è questo anello, questo anello che ha scritto smooth e tight, questo è un anello che va ad agire sulla fluidità dello zoom, quindi innanzitutto ve la faccio vedere tutta zoomata, vedete questa è l'ottica chiusa così come si presenta, nel momento in cui io vado a zoomare vedete che è grossa, perché comunque non dico che era doppi, però è un terzo in più, quindi la portata dello zoom ti fa aumentare la lunghezza totale di circa un terzo, forse anche qualcosina di più. Ora con questo anello noi possiamo decidere se la zoomata deve essere morbida o deve essere rigida e questo ha molto senso, questa è una cosa che io vorrei su tutte le ottiche, perché nel momento in cui io la lascio morbida, questo momento è morbida, vedete che se io la uso è molto fluido, no? Se io vado a zoomare è molto fluido, è molto comodo portare questo movimento perché è assolutamente morbido, però guardate che cosa succede se io la tengo in questo modo, vedete scende da sola ed è assai probabile che se io la metto al contrario, vedete rientra da sola, io non l'ho toccata, si muove da sola, quindi questo anello è molto utile perché nel momento in cui io gli dico rigido, a questo punto è vero che faccio più fatica, ma se la tengo così non si muove più, quindi con questo anello, vedete che se io lo rimetto su morbido torna giù da solo, quindi è molto utile questa cosa su uno zoom di questa portata perché mi consente di decidere se sto lavorando in orizzontale vado a lavorare in questo modo e sono agile, se sto facendo degli scatti zenitali o se sto facendo qualcosa di diverso posso decidere di rendere più rigido il mio zoom in maniera tale che non si muova da solo, un'idea molto azzeccata secondo me. Parlando di prestazioni di messa a fuoco l'ho trovata assolutamente nella norma per quanto riguarda le mirrorless, nel senso non è una lente eccezionale per quanto riguarda la messa a fuoco, fermo restando che stiamo parlando di prestazioni alte, questo dipende ovviamente anche dal corpo macchina, però stiamo parlando di prestazioni medio-alte, è una lente che comunque va benissimo per fare wildlife o per fare sport, infatti l'ho utilizzata per fare sport, è un'ottica che permette di mettere a fuoco in maniera precisa e molto molto rapida, giusto per farvi capire, io adesso vado a mettere manualmente a fuoco alla massima distanza e poi vado a mettere a fuoco la mia R7 con cui sto registrando il video, così vediamo quanto ci mette a mettere a fuoco dalla distanza massima alla distanza minima, avete visto che è maledettamente veloce, è assolutamente rapida e assolutamente precisa, vedete ora è vicino, ora è lontano, ora è vicino, ora è lontano, ci mette veramente un nanosecondo a mettere a fuoco e la messa a fuoco gestita in automatico è comunque molto molto precisa, io ho trovato che questa combinazione, quest'ottica più questo corpo macchina azzeccano quasi sempre dove devono mettere a fuoco perché hanno un sistema che legge la scena per cui riescono a capire molto bene dov'è che devono mettere a fuoco, stiamo ovviamente parlando di roba estremamente costosa e non ho intenzione di mentirvi, questa strumentazione non è per tutti in particolare io la consiglio solamente a chi deve fare sport o natura ad alti livelli e per alti livelli non intendo dire che siete degli amatori stra evoluti che vogliono farlo stra bene ma intendo che siete pagati per un lavoro di alti livelli, questo lo dico semplicemente per non sfondarvi le tasche perché se voi ve lo potete permettere e volete comprarvi questo corredo, ma padronissimi, ve lo prendete benissimo però io non ve lo consiglio perché comunque costa veramente tanto, io questa la consiglio solamente a chi ci lavora, solamente a chi la usa professionalmente e quindi se la ripaga. Ovviamente un'ottica come questa può andare molto bene per fare sport, per fare natura ma anche per fare secondo me dettagli architettonici, può andare benissimo per fare fotoprodotto, può andare molto molto bene per fare ritratto, va bene ovviamente anche per fare matrimoni anche se vi devo segnalare che è un'apertura variabile, infatti qui abbiamo un f4.5 f7.1, questo significa che se andiamo a tutto zoom abbiamo un'apertura massima di f7.1 che è un po' limitante. È uscito infatti sul mio canale di recente un video riguardo a un'altra ottica, un'ottica sempre di questo tipo ma molto più costosa che è il 100-300 mm f2.8 a diaframma fisso. Quella è un'ottica che ha un costo spropositato, costa molto più di questa ed è ovviamente un'alternativa migliore perché appunto ha il diaframma fisso f2.8 quindi è molto più luminosa di questa. Questa secondo me è un'ottima ottica con cui si riesce lo stesso a portare a casa il lavoro però avere un f2.8 sicuramente ti dà qualcosina in più sia in termini di sfocato sia in termini di luminosità quindi si possono ottenere gli ISO più bassi e lavorare meglio. Parliamo di nitidezza, una lente come questa di cui vi faccio vedere il test di nitidezza che ho fatto nel mio studio e vi devo dire che per scattare a 500 mm ho dovuto mettere il test su un lato e io ho dovuto indietreggiare fino ad avere le spalle al muro letteralmente perché il mio studio non è così grande da gestire un range come questo. Ho fatto questo test che vi mostro, l'ho fatto sempre a f7.1 questo perché il 300, 400 e 500 mm lavorano solo a f7.1 quindi vi ho fatto vedere lo stesso diaframma su tutta la lunghezza focale. Mi è sembrato inutile farvi vedere il 100 mm a f4.5 tanto poi si doveva chiudere per forza quindi lo facciamo tutto a f7.1. come potete vedere dai test la nitidezza è buona soprattutto allora al centro abbiamo una buona nitidezza sui 100 mm che poi rimane abbastanza discreta anche sui bordi. Devo dire che c'è un'aberrazione cromatica molto evidente, qui vediamo sia il purple fringe sia il verde quindi abbiamo proprio dei difetti abbastanza difficili da ignorare soprattutto su un'ottica di questo costo però tant'è comunque un'ottica di pregio è un'ottica di fascia alta quindi credo che questo fosse il meglio che la casa è riuscita a fare con queste condizioni e con il tempo che ha avuto a disposizione. Saliamo a 300 mm e vediamo che nuovamente al centro non brilla particolarmente per nitidezza però rimane abbastanza costante anche se c'è sempre comunque l'aberrazione cromatica. A 400 e 500 mm la situazione è abbastanza inalterata nel senso che ha una buona nitidezza ma non eccezionale quindi questa è un'ottica che a parer mio è buona è valida funziona mi permette di ottenere il risultato è questo che sto pagando sto pagando un'ottica che mi permette di innanzitutto di raggiungere quel range di zoom che mi serve per catturare l'immagine quindi se devo fotografare qualcosa di molto distante ho bisogno del 500 mm questa è un'ottica che mi consente di farlo mi consente di farlo e mi permette di lavorare a mano libera soprattutto perché ha uno stabilizzatore con anche selettore ha uno stabilizzatore molto molto valido che mi permette assolutamente di lavorare a mano libera io con questa macchina ho lavorato a mano libera per tutto il giorno quindi la tengo in questo modo posso scegliere se tenerla in questo modo sull'anello di messa a fuoco che comunque è comodo oppure di tenerla per la sua maniglia che poi è l'appoggio per mettere la vite nel caso vogliamo metterla su un treppiede non andiamo a mettere un treppiede qua perché si spezzerebbe andiamo a mettere il treppiede qui come giusto che sia così la macchina è bilanciata sul nostro treppiede io posso tenerla anche così soprattutto se non sto lavorando di zoom e se non sto focheggiando a mano posso tenere oddio potrei anche tenerla così e focheggiare a mano in questo modo è comodissimo sembra veramente fatto apposta guardate com'è morbido quest'anello di messa a fuoco se faccio video e comunque se ho necessità di focheggiare a mano questo è veramente il massimo comunque la posso tenere sia così sia così quando non la sto usando la tengo in questo modo a porto in giro in questo modo e non è neanche particolarmente pesante vi dico cioè è pesante però si tiene tranquillamente in mano non si muore mica sicuramente un'ottica di questo tipo con il suo peso dovendo muovere tutto questo vetro e avendo uno stabilizzatore così impegnativo andrà a consumare ancora più in fretta la nostra batteria quindi questo è un contro una cosa che va detta è sicuramente un contro una cosa invece che reputo molto molto positiva è che abbiamo un diametro per i filtri di 77 mm quindi questo rimane lo stesso diametro delle lenti canon ma anche di altre case che potevamo già avere nella stessa fascia 77 mm vuol dire che possiamo usare i nostri vecchi filtri da 77 mm io personalmente ne ho tantissimi perché uso sempre il 77 mm come diametro quindi su questa lente potrei montare tutti i miei vecchi filtri vado adesso a farvi vedere un paio di immagini scattate con questa lente e di nuovo vi faccio vedere uno scatto a 100 mm uno scatto a 135 mm uno scatto a 200 mm e poi andiamo a vedere uno scatto a 300 a 400 e a 500 mm questo per farvi vedere innanzitutto la progressione che possiamo avere quindi dal punto di partenza dai 100 mm vi faccio vedere dove possiamo arrivare quindi per farvi capire quanto è in grado di avvicinarci al nostro soggetto un'ottica come questa ed è veramente tanto è veramente notevole io sono molto piacevolmente impressionato mi è piaciuta veramente tanto questa lente me la comprerò certamente no ve lo posso garantire io non comprerò mai un'ottica come questa perché non mi capita mai di usarla mi capita una volta all'anno e quella volta all'anno preferisco spendere 100 euro per noleggiarla quella volta piuttosto che spenderne 3000 e averla sempre perché la userei poco anche se è pur sempre vero che avendo cioè se qualcuno di voi me la regalasse a quel punto finirei per usarla e quindi se me la volete regalare sentitevi pure liberi però io difficilmente l'acquisterei perché la userei comunque molto molto poco non è il tipo di fotografia che faccio abitualmente e comunque ho delle alternative più convenienti come già detto personalmente raccomando un'ottica del genere solamente a professionisti che lavorano nel mondo dello sport o del wildlife o se vi viene in mente qualcos'altro lasciatemelo sapere nei commenti perché io posso anche non aver pensato a tutti gli utilizzi possibili di un'ottica come questa però questi sono quelli che vengono in mente a me infatti l'ho presa per fare sport non riesco a pensare onestamente a un altro utilizzo per un'ottica come questa tenete conto che è difficile da usare cioè indoor dentro nello studio è difficilissimo da usare non si riesce a usarla a 500 millimetri bisogna arretrare tantissimo a questo punto ci si ritrova a usarla a 100 millimetri o a 135 millimetri a quel punto piuttosto userei il mio 100 millimetri sarebbe la stessa identica cosa anzi 100 millimetri è più nitido ed è più piccolo ed è più maneggevole costa di meno quindi io andrei sul 100 millimetri prima di comprare un'ottica come questa perché con un'ottica come questa si fa fatica è un'ottica da esterni secondo me è un'ottica unicamente da esterni dentro in uno spazio ristretto si fa molta fatica a usarla è un'ottica che può andare bene per eventi anche se non me la sento di consigliarla per matrimoni perché come già detto non è particolarmente luminosa anche se la messa a fuoco comunque c'è quindi si può usare per matrimoni e per eventi dobbiamo andare un pochettino a sacrificare la sensibilità iso nel senso che dobbiamo andare a compensare l'apertura che non è proprio fantastica un'altra cosa che forse non vi ho detto qui vedete c'è una rotellina e questo può ruotare quindi se io mi stanco posso portarla in giro così da quel punto di vista è comodissimo vedete questo si può ruotare si mette dove si vuole se si vuole scattare in verticale cioè io sto scattando così e voglio metterla in verticale la giro il mio treppiede rimane sotto e io scatto in verticale quindi da quel punto di vista ha veramente delle belle feature è veramente un prodotto secondo me pensato bene poi tra l'essere pensato bene e valere quello che costa questo deve deciderlo ciascuno di noi perché dipende se ce lo possiamo permettere e se ce lo ripaghiamo tutto qui amici a questo punto io non voglio dilugarmi ulteriormente vi lascio spazio nei commenti se avete domande da farmi su quest'ottica vi risponderò come posso perché appunto l'ho usata per poco tempo e adesso la restituisco quindi quando mi arriveranno i vostri commenti non ce l'avrò già più però se mi fate delle domande su qualcosa che ho potuto sperimentare vi rispondo altrimenti vi dico andatevelo a pescare sul sito di canon perché probabilmente le risposte alle domande ci sono bisogna soltanto fare un po di ricerca a questo punto io vado a restituire questa bellissima ottica mi dispiace tantissimo ma purtroppo ci dobbiamo separare vi ricordo se non siete già iscritti di farlo adesso attivando anche la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti ci saranno presto altre uscite quindi potremo vedere diavolerie di questo tipo non voglio dirvi superiori perché insomma più di r5 e di questa non so se avrò mai qualcosa che vada a superare quello che vi sto facendo vedere adesso però ci saranno comunque delle belle sorprese per cui io vi ricordo se vi interessa l'argomento di iscrivervi sempre e comunque vi lascio spazio nei commenti per qualunque tipo di domanda o richiesta vi ringrazio di aver passato con me un po del vostro tempo e vi do appuntamento al prossimo video